Benvenuti a tutti in questo nuovo gameplay, siamo tornati finalmente su un nuovo video dopo un po' di tempo dovuto al trasferimento qui al mare e dovuto al mio pc che fa veramente schifo e che non regge nessun tipo di gioco quest'oggi ci troviamo su The Binding of Isaac che è un indie molto interessante che praticamente riprende la storia della narrazione biblica legata ad Isacco quindi in questo gioco impersonificheremo un ragazzino che dovrà sfuggire da dei mostri all'interno di uno scantinato per poi ritrovare la luce questo tipo di gioco è un gioco fatto a livelli nel senso, o meglio dire, a quadri nel senso che il personaggio passerà da un quadro all'altro andando da una porta all'altra e quindi dovrà affrontare dei mostri e ovviamente ci saranno anche dei boss detto questo, io questo gioco lo sto provando per la prima volta con voi quindi farò pena perché non so manco i tasti quindi succederà un casino assurdo e quindi direi che iniziamo subito il gioco ok, perché il bambino già sta in lacrime? fermate il bambino in lacrime allora per muoversi attacco con le frecce bomba con shift e spazio per accogliere gli oggetti va... ma... eeeh... cioè lei cammina all'indietro così vabbè, ma con il Jackson va bene allora io direi subito al primo livello vai! che ho? oh! che è sto schifo? vieni qua! vieni qui! ma che è? ma questo non c'ha la testa? ma che schifo? ma sta sparato col cervello? ma che è? oddio! piastrocoso? ok, che ho vinto? un per the hermit allora, possiamo andare alla porta questa qui d'oro o questa di qua? andiamo un attimo di qua e poi andiamo con la d'oro che è qua? oddio, che è? Isaac vs. Pride ma chi è? oh! ma che è un po'... ma scusate, ma è l'inizio del gioco inizia così il gioco no, 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 no aiaiaiaiaiai ma queste ma ma che succede? cioè il gioco inizia così ma manco ho iniziato no! vai via no, 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 no no! ma porco ma porco il mondo ma che? ma è un casino a parte scomodissimo tipo vabbè che scomodissimo tipo cliccare i tasti con le frecce dai mori, 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 mori dicevo scomodissimo cliccare queste frecce e sti e e wasd per muoversi perché mi sembra tipo che me sbaglio e vado con le frecce pensando che cammino ora porto qua un altro the hermit e c'è una chiave attenzione chi è sta cosa? che è un buh, vabbè c'è una chiave? intanto se sentite in sottofondo è un treno che passa qui davanti sì, c'è un treno che ogni tanto passa vicino alla stazione e andiamo a questa porta qua oro vai che è oh? c'è della merda eeeh ah, si spacca anche ok distruggi tutto per favore che è sto coso? ho vinto il cioccol latte a cioccolato ah, adesso ah, ok prima sparavo acqua adesso sparo le cose al cioccolato vabbè e me ne posso andare perché tanto non c'è sta niente qua eeeh dove vado torniamo di qua eh no quasi siamo venuti eeeh gioco pronto? dove vado? eeeh e qua c'è sta sto coso va bene ok ma dove vado adesso? pronto gioco dammi un suggerimento hello gioco? no ho lasciato la bomba pure per caso gioco? dove vado? gioco? e allora andiamo qua sotto vabbè che ho dei fuochi distruggiamo tutto prendiamo prendi il cuore va a pia va a pia il cuore subito ma per me per me ma non ti cioè non da sbattere qua la merda vai vai mo eeeh ma andiamo a sinistra qua chi c'è qua? no 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 che so questo? aiuto no via 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 andatevene no morte 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 ok mori 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 madonna mia ma che so sti morti qua no 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 vai via no sparite ok eeeh non sta tanto bene lei ok ok prendiamo un soldo dammi un soldo ok andiamo di qua e a questo punto andiamo sotto andiamo sotto chi c'è sotto? chi è qua? no ma quanti ma quanti ma qua c'è moro morite 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 no 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 e cala mori c'è aspetta aspetta gioco non ti rallentare sto piccino regge manco super mario allora calmi allora ragioniamo io andrei qua no 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 scherzavo stavo scherzavo morite 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 mori 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 no ok dai dai ok adesso ragioniamo no ho sbagliato ho sbagliato no 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 chiudo mi sono chiudo mori mori ok 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 fa una strage dai venite 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 ve sputo sto cioccolato al milk qua proprio cioccolato al latte ve sto cioccolato dove ti kinder te 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 ok oh si è aperto il portone anche un cuore ok andiamo qua oddio che succede isaac versus monstro oh madonna che cos'è oh no 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 che è sto schifo che ma che ma che è oh oh aiuto ma questo è un pazzo ma fermatelo aia no eh qua c'è moro doido ma porco eh ma questo è difficile oh aiuto aiuto sto a morì morì sono morto ma mannaggia il mondo beh sono morto come un deficiente e ora sono ripartito da qui eeeh boh andiamo di qua c'è una bomba ok che è qua due senza testa oh piano vabbè ma scuse ma sono capitato subito col col boss assurdo che mi ha distrutto praticamente ho perso pure gli ovetti kinder togliti ok dammi qua il soldo che è qua no 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 che so sticosi madonna liscia incredibile ce la fa spara un po' più forte dai ok un cuore andiamo sotto che è qua un'altra volta no isaac versus monstro un'altra volta oh madonna morì 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 no 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 devi morì 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 dove va oh fermatelo che poi slancia sti cose che me stanno su ma no il gioco si rallenta come uno stroppio aiuto 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 no ma lo sto prendendo una volta no ok mo se impalla al compiuto il gioco vialo vialo battivo un frame al secondo no 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 dai 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 no ok dai 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 che ci siamo quasi dai no no ok dai mazza sto demente dai che è morto sì dai dai va bene perfetto che mi ha lasciato qua un pezzo di pollo buono rotten meat perfetto 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 qua che fa ma andiamo giù boh è qua l'opia no non l'ha preso se andiamo giù e piangono sto ragazzino che è successo ah abbiamo penso che abbiamo superato un livello penso io credo non lo so boh eh sì siamo arrivati al basement 2 non vi faccio vedere tutto il gioco perché mi sembra abbastanza inutile quindi vi ho fatto vedere diciamo il basement 1 quindi il primo diciamo la prima serie di quadri detto questo è un bel gioco un po' difficoltoso all'inizio da controllare perché tra frecce e Waz praticamente uno si impazzisce perché è difficile tipo sta a suonare pianoforte se non sei abituato a suonare pianoforte fai in casino però è un bel gioco quindi provatelo detto questo io spero di fare video un po' più spesso però vi ripeto sto pc regge a malapena i giochi del 65 perché non regge una mazza se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace di condividerlo e di commentarlo e noi ci troviamo in un prossimo appuntamento un saluto a tutti grazie grazie